Ciao a tutti ragazzi, io sono Andracia e benvenuti sull'universo dei Nalbi. Qui con me c'è il nambone di Carlitos. Ciao a tutti. E oggi siamo su un nuovo giochino. Di Match Warrior Online. È la nostra seconda partita, diciamo, ma la prima è come se fosse nemmeno esistito. È un giochino, come avete visto, di robot. È free to play, quindi potete scaricarlo senza pagare niente. Sì. E non ci chiedete come si gioca perché non ne abbiamo la falla di idea. È la prima volta che lo vediamo, la prima volta che giochiamo, la prima volta di tutto. Come potete vedere siamo su Caustic Valley. Guardate la mappa quanto è grossa, no? Ci sono 85 gradi, c'è caldino quindi. Meno male ne ho messo la riundizionale dentro il bot. Guarda che bello dentro. Che spettacolo. Spero che questi qui correranno almeno. Allora, vediamo un po'. F4. Eccola! Sì! Oh, la visuale da dentro, finalmente. La dobbiamo trovare. Oh, la mappa nel centro. Madonna mi va. Oh, gira le gambe, gira le gambe. No, io mi torto. No, è un casino. È peggio di giocare a World of Tanks qui. Questa è la simulazione dei robot. Ah, praticamente... Guarda come corre questo. Oh, c'è anche il nos dietro. Guarda come vola. Oh, guarda il mustaddo dov'è. Sei te quello lassù? Sì. Forse anche un po' troppo. Oh, fai 110 questo. 137 sono io. Oh, oh. Ho rotto... Mi pinga. Ho rotto la gamba sinistra. Come hai rotto la gamba sinistra? Sono stato su un alleato. Oh, mi stanno sparando. Se qualcuno di voi... Se qualcuno di voi sa... Ci gioca. Non lo so. Oh, ma cacchio. Ma c'è la hi-fi in questo coso? Io rimetto la visione da fuori perché se no... Ma te dove sei? Nel mio insieme. Non ti vedo, non ti vedo. Eccoti, eccoti. Siete questo che corre? Ciao, Androne. Ciao, Androne. No, no. Aspetta. Cazzo. Guarda che sei piccolissimo rispetto a questo. Guardami. Guarda come siamo piccoli. Vabbè, Lede. Dai, mi sono rotto anche l'altra gamba. No, questo qui è il peggio della MX-1990 di World of Bands. Che si spacca per ogni saldino minimo. Oh, oh. Praticamente te il mouse non lo devi mai toccare. Devi toccarselo A e D. A parte per sparare. Mamma mia, che macello questo gioco. Ma ci vola! Uiii! Oh, qua qua to' in alto. A chi spari? A quel tipo. Oh, c'è una miniatrice questi. Bella. Oh, caspita, sono tutti qui. Oh, caspita. Tu stai proprio nel covo dei mostri. Sì, infatti guarda, dico, buone merde. Oh, oh. Cosa vuol dire incoming missile? Non capisco se li sto facendo, se li sto facendo male. Io non so nulla. Non c'è la mod di... Di Watt dice quantità di fai? Davvero. Io ora mi rimetto dentro la visuale interna. Ahia, ti ho sparato. Ma non so se c'è il fuocamico in questo gioco. Non lo so. Oh, guarda che movimento è da profad. Ragazzi. Ma dai, ciuuuu. Sembra di guidare tipo uno scavatore. Ma non mi gli spara, Carlone. Oh, ma li faccio male o no, questo coso? Io mica lo capisco. Ma lo sta uccidendo. Oh, che c'è se li sto facendo? Lo sto facendo sull'edio. Io voglio prenderlo con il raggio col tasto destro, no? Oddio, quanti sono laggiù. No, no, c'entra le gambe. C'entra le gambe. Ah, guarda sulla mappa, la linea saldeggiata. Eh. Sono le gambe. Di chi? Di tu robot. Ahia. C'è se... Oh, incoming missile. Sulla mappa, le linee... Ah, sì, ora qui io. Oh, ma cazzo. Questo qui è corazzato bene. Mi hanno attaccato le ghiate, quello lo sono morto. Eccoci, eccoci. Ma? Mi rimetto il visuale da fuori, va? Io scopo da qui. Pfff, guardate qui, il posto bruciatori. Pfff. Oh, cazzo, incoming missile. Aiuto! Corri! Pfff. Dai, forse sto iniziando a capirci qualcosa. Oh, si può anche correre. Come si fa? Con... Shift. Non noto miglioramento. No? Allora forse era un effetto placebo. Ops, scusate. Ah, a me mi stanno rincorrendo tutti. Aiuto, aiuto. Sono dentro di te. Che sono io? Eh, chi sei tu? Oh. Ma io non capisco quando carica le armi. Oh, che cosa è questo? Trevisore di Hoke? Oh, l'abbiamo ucciso! Ma che sei questo? Te sei questo. Ah, sì. Minchia, te è grosso lui. Oh, che cazzo è questo? Aspetta, mi alzo per fatti passare. No, di me c'è gente qui. Però che è brutto che non si vede la mappa se non sei con la visuale interna. Fa male a rimettere, va? Eccomi qui. Oddio. Mamma mia, ma la nostra vita dov'è, scusa? Perché io non so se sono vivo o se sono morto. Dovrei sapere che vita c'ho. 53% forse? 52? Ma io mi sa che si ricarica la barra di destra, perché sono a 9% ora. No, quella lì è il surriscaldamento del motore. Surriscaldamento del motore? Cioè, non del motore, delle armi. Se le armi si surriscaldano ti si blocca il Mac. Cioè, questo coso che stiamo usando. Ah, in Mac sarebbe il robot. Sì. Critical damage. Oh oh. Forse non dovevo. Uff, ragazzi. Cioè, dimmi se non ci meritiamo un po' di pollici in su. Perché stiamo durando... Questo bel nuovo giochino. Stiamo durando un sacco nella nostra prima partita. Non sapevo manco come si fa a sparare, tipo. Abbiamo scoperto ora che si può mettere la visuale interna. Sì. Io sto cercando di fare il giro largo. Vediamo un po' dove mi porta. Ritorniamo con la visuale interna, così vediamo dove siamo. No, no. C5. Io sono in C5. Corri, Benny. Corri. Ah, guarda Canzo quando... Oh oh. Scappa, scappa. No, non mi dica se ho morto. No, mi hanno rotto una gamba. Basta. Sì. Ho fatto una kill? Kill 1, 65 danni. Minchia che prof. Cazzo. Vediamo Carlito. Io sto per andare a catturare, forse. F4. No, non posso mettere... Però, che pacca. Non posso mettere la visuale esterna. Molto al spettatore. Eh, mi sa di no. Ma tu mi vedi? Sì, sto guardando se... Allora, forse qui sto cappando. Va vai, cappa. Cappa e si vince. No, girati. Premi F per centrare le gambe. Guarda la mappa quando premi F. Sì, sì, ora sto cercando di essere così. E come si fa a sapere quanto manca il cappaggio? Eh, non è mica vuoto questo. Che ne so io? Ah, la barra rossa. Guarda che scende. Così lenta? Oh, quando hai messo da fuori, la vedo anch'io da fuori. Ah, sì? Comodo. Premi F. Non vedi quando si gira le gambe? Ora premo F. Che spettacolo. E' presente le ruote di un muletto. E' uguale. Per questo affare, per la simulazione del robot, è una figata questo gioco. Sì, ma... Cioè, se ci giocate la prima volta, vi sembra una cosa... Cioè, questa è la nostra seconda partita, già... Comincio... Ah, gli hanno addietro. Già comincio a capire un po' come ci si muove. Comunque... C'è un nemico addietro nel culetto? Vi si consiglia questo gioco. Non so se... Forse... Da maggio 89. Finiamo qua il video? Eh, sì. Il video finisce qui. Vi ricordiamo il... Spero che la partita vi sia piaciuta, anche questo nuovo giochino. Questi sono i rapporti di fine battaglia. Vi ricordiamo il pollice in su, commento, iscrivetevi. Alla prossima, ragazzi. Alla prossima. Ciao, ciao.